Eccoci quindi al secondo video di questa settimana e l'ultimo del corso. Parleremo della dichiarazione autovalutativa che va inserita nel portfolio e brevemente anche della copertina. La dichiarazione autovalutativa costituisce proprio il cuore del portfolio. Riprendendo gli argomenti lasciati alla fine della prima lezione di questa settimana, diciamo che dopo aver raccolto le evidenze su quanto fatto negli anni precedenti, averle esaminate per tentare una sintesi e aver capito che tipo di competenze abbiamo sviluppato, selezioniamo quelle evidenze che sono servite a raggiungere quelle competenze e che si possono inserire in una narrazione, ovvero non tutte le evidenze raccolte, ma quelle significative al fine del nostro racconto. Il modello del portfolio allegato alle linee guida definisce determinate caratteristiche per la dichiarazione valutativa. Non deve avere più di mille parole. Altrove nel libro del portfolio se ne raccomandano addirittura 700, ma diciamo che comunque restare sotto le mille idealmente o tra le 700 e le 1000 facilita di molto il compito di chi lo deve leggere. Le evidenze scelte per essere presentate, che sono al massimo 10, non devono venire riprese completamente necessariamente, come dicevo prima. Questo significa che non occorre precisare il corso Information Literacy bibliotecari in azione che si è tenuto nel tal luogo per un tal numero di ore, eccetera, eccetera, perché queste informazioni si trovano già nell'area delle evidenze. Ciò che invece qui interessa precisare è come quel corso ha contribuito a sviluppare una competenza, che cosa ha dato al professionista. Ad esempio, riprendendo la storia di Giulia, nella sua dichiarazione autovalutativa dirà nel corso di questi tre anni ho acquisito delle competenze nel campo del reference dell'Information e Media Literacy. Fondamentale è stato il corso Bibliotecari in azione dalle parole e fatti, dove ho capito che l'Information Literacy è una competenza trasversale che aiuta tutti a diventare cittadini consapevoli e a stimolare la cittadinanza attiva. Ho imparato a conoscere meglio risorse informative e strumenti al servizio dell'apprendimento di gruppo, che è un approccio in cui credo perché il sostegno tra pari diminuisce il senso di inadeguatezza e aumenta la motivazione. Vediamo insomma che Giulia qui spiega perché il corso è stato importante per lei. Nella dichiarazione potrà anche aggiungere i riferimenti alle letture fatte a Solimine di Mauro, ne abbiamo parlato nella precedente lezione, ad eventuali confronti avuti con colleghi di altre biblioteche che si occupano di questi servizi, quali sono state le sue motivazioni nello sviluppare queste competenze, che cosa intende farne e via dicendo. Dipende da ciò che Giulia intende condividere. Riprendiamo quindi a scegliere le evidenze. Lo stesso modello del portfolio che si trova in rete fa una serie di esempi, premettendo che il regolamento AIB parla di crediti. Proviamo a misurare con un'equivalenza 25 ore uguale a un credito le evidenze prodotte e vediamo quale numero di crediti raggiungiamo e se ne raggiungiamo. Le evidenze possono avere i formati più diversi, audio, video, testo, e possono essere di varia natura, ad esempio, ma non solo, e segue tutta una casistica che non vuole essere esaustiva e che comprende quanto vediamo qui. Valutazioni di conferenze e eventi di formazione, documenti sugli obiettivi del servizio con note che mostrino il contributo personale al raggiungimento o le proprie opinioni personali sui risultati, informazioni create dal singolo per gli utenti, estratti da rapporti, estratti da articoli pubblicati, estratti e note da presentazioni, misurazioni della performance, verbali di riunioni dai quali risulti evidente il contributo individuale, relazioni su visite effettuate, pagine web, blog, bibliografie annotate, piani di formazione, sempre se ne viene evidenziata la pertinenza con la storia professionale individuale, e via dicendo. L'elenco serve a far capire che non si tratta tanto di partire dai certificati che abbiamo in mano, dalle attestazioni, ma da quello che siamo diventati dopo. Sarà poi un altro problema quello di trovare un modo creativo ed efficace per raccontare questo nostro sviluppo. Ulteriori esempi di evidenze per l'apprendimento informale e non formale sono legate alla direttiva CEN, all'allegato 2, del quale qui vedete il link, e che contiene 4 tabelle che coprono le tipologie per i carichi e incarichi AIB, le tipologie per attività di studi, ricerche e pubblicazioni, quelle per attività didattica e o di responsabilità scientifica, le tipologie esemplificative per attività di aggiornamento on the job. Le evidenze da inserire nel portfolio a testimoniare di aver raggiunto le 25 ore di formazione annua possono essere inserite nella tabella 1. Anche questa è presente nel modello di portfolio, non quello in rete che è stato un po' riassunto, ma quello che voi trovate in bibliografia del corso, dove c'è questa tabella che vi può semplicemente essere comoda. Dopo aver esaminato il mio percorso degli ultimi anni, riflettuto sulle mie competenze, raccolto le evidenze, mi sono chiarita le idee sul tipo di professionista che sono, sono diventata, vorrei diventare. A questo punto non dovrebbe essere difficile scrivere la copertina del mio portfolio. La raccomandazione è che sia breve, non più di 150-200 parole, dice il libro Il Portfolio delle Competenze, ma più breve è, meglio è. Perché? Teniamo presente che la copertina serve a capire velocemente chi si ha di fronte e nel caso di un possibile datore di lavoro, a capire immediatamente se la persona della quale sto per leggere il portfolio fa il caso mio oppure no. E se è del caso, se leggere o meno il portfolio, tra l'altro. Quindi leggiamo l'esempio. Laureata in filosofia, lavoro nelle biblioteche da 20 anni. Mi sono occupata di servizi, inclusa la formazione, rivolti al pubblico, dell'organizzazione di mostre e della redazione di guide. Inoltre, verifico continuamente la produzione editoriale e le risorse libere in rete per contribuire allo sviluppo delle raccolte sia digitali che analogiche. Appassionata di comunicazione, collaboro a stabilire le strategie di comunicazione della biblioteca stessa. Non sono personalmente così attiva sui social media, ma li conosco, li studio, li so utilizzare e insegnare. Così come conosco e insegno a usare il software di base, le risorse e le app in rete per l'apprendimento ai ragazzi che frequentano la nostra sala di studio. Mi piace lavorare in gruppo e confrontarmi con le opinioni altrui. Credo che i migliori risultati arrivino dal lavoro collettivo. Evitiamo dunque di ripetere i dati anagrafici e personali nella copertina, il numero di telefono e l'email che si trovano già al trovo nel portfolio e facciamo riferimento piuttosto alla nostra formazione, alle nostre attitudini e alle nostre preferenze. Vediamo che l'esempio qui riportato non fa riferimento alla formazione degli ultimi tre anni, dice della formazione iniziale della bibliotecaria in questione e racconta di che tipo di persona è. Si tratta di una bibliotecaria orientata verso il reference e in servizio al pubblico che lavora bene in gruppo. Un altro potrebbe dire che preferisce lavorare da solo e occuparsi di back office. Un altro ancora che scrive regolarmente su una rivista e via dicendo. Ogni storia è personale. Dall'analisi dei portfoli presentati nei vari corsi che si sono tenuti negli ultimi anni in Italia, appare qualche errore comune che ne pregiudica la comprensione e siccome dagli errori si impara, qui li segnaliamo. Si vedono dichiarazioni autovalutative che ripresentano le evidenze ad una ad una con una o due frasi di precisazione. Ho seguito il corso tale dove ho imparato questo e quest'altro, ho seguito l'altro corso, eccetera, eccetera, anche in ordine cronologico. Questo obbliga chi legge a fare lo sforzo di sintesi, mentre è bene che questo sforzo venga compiuto da chi scrive, non solo per facilitare il lavoro di chi legge, ma anche per assicurarsi che passi il nostro messaggio, ovvero il nostro racconto di chi siamo. Se Giulia raccontasse in ordine cronologico di tutte le esperienze che ha fatto, siamo sicuri che chi legge capirebbe che sia specializzata sull'information literacy perché è una cosa alla quale tiene? Allo stesso modo, evitiamo di ripetere le informazioni più volte. Facciamo riferimenti incrociati solo se necessario, come riferimenti del tipo come si vede dall'elenco delle evidenze, eccetera, eccetera, oppure brevemente al titolo del corso, ma solo se è funzionale alla nostra dichiarazione. Attenzione alle informazioni su di noi che si inseriscono nel breve curriculum vitae che si allega al portfolio. Facciamo pure riferimento alla nostra formazione formale, se abbiamo frequentato l'università in quali indirizzo, eccetera, anche se si tratta di molti anni prima perché serve a dire chi siamo, ma poi riferiamoci solo alle esperienze degli ultimi tre anni. Ad esempio, se lavoro in biblioteca da vent'anni, lo posso dire, ma non occorre che faccia l'elenco di tutte le biblioteche dove ho lavorato. Se ho cambiato più volte, farò riferimento preciso solo alle biblioteche dove sono state negli ultimi tre anni. Anche rispetto ai dati anagrafici e ai dati lavorativi facciamo attenzione e ricordiamo quanto già detto a proposito della copertina. C'è un luogo dove indicarli, lasciamoli lì bene in evidenza, ma non ripetiamoli continuamente. Quindi, per chiudere, cosa dovete fare ora? La settimana prossima confronterete le vostre evidenze degli ultimi tre anni nel gruppo, guarderete le aree di osservatorio formazione e la norma uni e cercherete di capire quali sono le vostre competenze. Quindi, cominciate, se non l'avete già fatto dopo il video di lunedì, la raccolta. Cominciate a raccogliere le vostre evidenze e a pensare a quello che avete fatto negli ultimi tre anni. Ricordate di compilare il test riguardante questa lezione che può essere compilato una sola volta, quindi siate sicuri di farlo in un momento nel quale siete tranquilli e nessuno vi disturba così da non doverlo interrompere a metà e incorrere in errori. E attenzione alle scadenze che, per rispondere alle domande di molti, dico che si trovano anche a partire dal calendario del corso. Buon lavoro a tutti quanti e arrivederci.